Mailboxis a Cava dei Tirreni, unica sede in via Vittorio Veneto 19, soddisfa tutte le tue esigenze. Nella ventitresima giornata della serie di Girone H, tutta quanta l'attenzione sarà focalizzata sul match di domenica prossima che al Simone Talamberti opporrà Cavese e Nardò, la prima contro la seconda della classifica, per una gara che certamente richiamerà molti spettatori allo stadio, forse ben oltre le 2000 presenze. Se è vero che i giocatori delle due compagini cercheranno di stare concentrati in maniera totale sull'incontro, è altrettanto vero che gli atleti di altre squadre terranno un occhio e almeno un orecchio al risultato di Cava. Sperando di poter recuperare qualche punto alle squadre che precedono, domenica si giocheranno anche gli incontri Martina Barletta, Casarano Altamura e Lavello Brindisi. Cavese e Nardò tutte e due col morale alle stelle, distanziate tra loro per tre punti, con i metelliani a quota 45, in testa al girone e dunque in vantaggio nei riguardi del Nardò, che è la più diretta inseguitrice a quota 42. Nardò squadra molto fisica, che può dare qualche preoccupazione alla Cavese, che però ultimamente è migliorata tantissimo sulle palle alte e nello spezzare il gioco avversario. Il Barletta è terzo a 41 punti. Per la gara di domenica Martina Franca recupererà l'ala destra Maccioni, che ha scontato la terza e ultima giornata di squalifica sabato scorso col Bitonto, ma perde in un colpo solo due tra i suoi uomini migliori, l'attaccante Di Piazza e il centrocampista vicedomini, entrambi squalificati. Martina, che viene dalla clamorosa vittoria esterna di Brindisi, che potrebbe far accrescere alla squadra di Pizzulli la consapevolezza di avere dei valori. L'Altamura, che ha 39 punti ed è quarta, domenica giocherà contro il Casarano, però non avrà a disposizione ben due difensori, Lacassia e Bertolo, entrambi squalificati. Comunque la squadra è in fiducia, avendo ottenuto l'ennesimo risultato utile del campionato, proprio a pochi istanti dalla fine, con il Francavilla. A sua volta il Casarano è sesto a 36 punti e si dovrà giocare il tutto per tutto. Il club salentino presenterà in panchina il nuovo tecnico Foglia Manzillo, che ha il primo compito di conquistare tutti i punti possibili tra quelli a disposizione. Il Brindisi, quinto in graduatoria con 37 punti, con il Martina non ha fatto gol, malgrado i tanti tentativi a rete prodotti. Ha addirittura perso, avrà tante squadre da superare di qui fino a fine campionato, ma il gruppo è con l'allenatore Ciro Danucci ed è riuscito a far revocare l'esonero del mister. I Brindisini domenica avranno il compito sulla carta più facile della giornata, dovendo incontrare il Lavello, a forte rischio di coinvolgimento nella zona play-out in questo momento. Intanto la Cavese si è ritagliata a una soddisfazione con i propri ragazzi del settore giovanile, perché all'inizio di questa settimana il giovanissimo centrocampista Domenico Capone, classe 2007, ha partecipato allo stagio di Catanzaro con mister Albanese per la rappresentativa Under-16 della LND. E inoltre, per quanto riguarda l'Under-17, guidata da San Fratello, sono andati ben tre ragazzi della Cavese nel capoluogo calabrese, tutti classe 2006, il difensore Natale, il centrocampista Barone, che aveva già fatto anche alcuni allenamenti nella prima squadra, e l'attaccante Catapano. Grazie. Grazie. Grazie.